da secco blaaaah zitto no vabbè cominciamo sto video aspettate devo fare un'ultima cosa allora che figata aspetta dove stanno i miei occhiali ok ciao aspettando subito questa si è la mia vera faccia si sono ancora piccolo per avere un canale youtube ma non fa niente non so come si mette la faccia così no non dovete vedere la foto con un amico non funziona wow vabbè in tutto e per tutto oggi vedremo a Five Nights at Freddy's 2 notte 4 è la penultima iscrivetevi ovviamente al canale di Globo57 anzi non vi iscrivete perchè lui è ruta e non lo vede è arrivato a Mingle ciao Mingle ciao Mingle no c'è Foxy c'è Foxy Foxy del cavolo vai vai ce la faremo la 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 questo non è Foxy del quarto sembra no sembra però no no ok perchè ho messo ah andiamo messo già in pausa se no perchè mmm mi voglio far andare bene oh ehm Simo 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 Puppet 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 oh cacchio oh ciao Puppet levati ma Puppet rientra? no 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 c'è Mingle c'era pure bon tizio c'è anche bonnie oddio se n'è andato bonnie dov'è? Puppet sta già fuori cos'era sto ruolo? oddio c'è Foxy ciao Foxy ciao Foxy fa schifo non ti voglio bene non ti voglio molto nessuno ti vuole a vedere Walter vabbè dico un gol pappetti c'è c'è fuori pappetti non mi chissi no Ballon Boy no Ballon Boy vatten tu non potresti essere batteri lo sai? no stai uno di energia Simo Simo vabbè mi chiamo Simo Simo perché non cambia no perché non cambia niente Simo 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 non cambia niente attenzione attenzione perché potrebbe potrebbe capitare remo la 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 na 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 attenzione a Foxy moriremo oh la 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 oddio non funziona funziona ma 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 chi sa che sta zero di batteria no non c'è ancora spinta perché sperimentali sperimentali prendo il video e non c'è più è giusto zero e meno sta qua e guarda è buono sta qua e meglio sta qua no dai brutto infame del cavolo di Foxy ecco perché l'odio a morte stupido idiota mi ha fatto avviare un colpo già iniziamo così brutalmente vabbè facciamo la notte 4 di file ma non hai ma non hai ma non hai messo un tavolo di video si mi hai penato vabbè chi stia una frega dai riavviata ho già l'ho riavviata è in passo no aaaaa qui giocherò il primo con qualcuno ok naso di fredda buono uii uiu uiu magica a vero non posso accendere l'olio perché non puoi no dai ok ti puoi accendere la luce per ora ok Foxy è già fuori va cagheri controlla Foxy molte volte come ti ha detto topolino 207 controlla molte volte Foxy e Foxy uscirà poche volte allora non lo guarderò mai è uffica molto molto perché non puoi accendere? non dico le allati vabbè che stai facendo? ehmue voglio far apparire Gordon Freddy perchè? perchè voglio roma si fa cosi? si odiami mi ha detto non è non oh già non mi prendo ok giuda sta qui e ora non guardare soltanto giuda non hai chiuso la porta 29 28 27 stia zitto mi manca pochissimo che bravo mi manca pochissimo però soltanto giuda mua mua si mua si mua ok mi ricordo le quattro non resisto di meno vabbè jumpscare di Freddy non è pauroso vabbè ragazzi per questo video è tutto ciao